allarme sicurezza sulle strade del barese dove nel giro di un mese sono otto le persone che hanno perso la vita a causa di un incidente l'ultima solo poche ore fa attorno alle due di questa notte sulla strada provinciale 44 che collega palo del colle a binetto per cause ancora da accertare un giovane che proveniva da binetto e viaggiava a bordo di una fiat stilo in compagnia di un'altra persona ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada oltrepassando il guardrail nei pressi del ponte che scavalca la ferrovia per gaetano al cantera 21 anni di palo del colle non c'è stato niente da fare il giovane è morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e ricoverata invece in prognosi riservata all'altra persona che viaggiava con lui macchina sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di molfetta che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito le operazioni per rimuovere in sicurezza il rottame accartocciato del veicolo finito tra gli olivi quello di questa notte però tutt'altro che un caso isolato nel giro di un mese sono otto le persone morte a causa di un incidente nel barese oltre a gaetano al cantera altre due persone sono morte a molfetta tre invece tra grumo bitetto e toritto mentre a polignano sono due i centauri che hanno perso la vittima nello stesso incidente una vera e propria carneficina che dopo un periodo di relativa tranquillità fa rialzare il livello di guardia